Poeti, 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 uscite dai vostri studi, aprite le vostre finestre, aprite le vostre porte, siete stati ritirati troppo a lungo nei vostri mondi chiusi, scendete, scendete dalle vostre Russian Hills, dalle vostre Telegraph Hills, dalle vostre Beacon Hills, dalle vostre Chapel Hills, San Francisco sta bruciando, la mosca di Majakowski sta bruciando e le nuvole hanno i calzoni, abbiamo visto le migliorimenti della nostra generazione distrutte dalla noia ai readings di poesia, tutti voi visionari da camera da letto e agi prop da gabinetto, tutti voi poeti alla graucio marxista e compagni di ozio di classe che restano inattivi tutto il giorno e che parlano del lavoro di classe del proletariato, tutti voi anarchici cattolici della poesia, tutti voi babysitter della poesia, tutti voi fratelli zen della poesia, poeti, scendete nelle strade del mondo ancora una volta, non aspettate la rivoluzione o succederà senza di voi. Mercoledì è l'8 marzo, quindi anticipatamente rispetto a questa puntata festeggiamo a modo nostro con, anche con autoironia, la giornata della donna che diciamo la verità, qualche decennio fa aveva un'importanza assoluta, era veramente un punto fermo, qualche cosa ancora da conquistare, oggi è un po' pleonastica, almeno speriamo che lo sia, risulta così più che altro un rito forse affettuoso, a volte amoroso, di coppia e comunque c'è questa grossa necessità, questo dovere di riconoscere il dono della donna, i suoi diritti, una beltà profonda e quindi sono contento di essere stasera circondato da poetesse e artiste, cominciamo a presentarle, Tiziana Bellucci, architetto, alla mia sinistra, nata a Portici, quindi sono luoghi magici di per sé stessi, vive a Napoli, le ricordavo appunto che la prima ferrovia italiana era proprio il tratto brevi, in fondo per allora anche infinito, perché la prima ferrovia tra Napoli e Portici, che allora era sede di residenze reali estive, quindi è un posto, poi sono posti che hanno anche innamorato e forse salvato per salubrità anche gli ultimi sette anni di Leopardi e quant'altro, insomma, e sono marine che sono state oggetto di tanti dipinti, di tanti, capisci, la scuola napoletana erano il clou dell'Ottocento, insomma, e quindi in qualche modo ti ringrazio di aver messo anche in questa tua poesia, ho letto questi colori, questo dipinto profondo, infatti ti farò leggere come prima poesia, proprio dipinto. Poi abbiamo Amida Sager, che viene da Tripoli, che è libica, amica dell'Italia, sono due anni, due anni e mezzo che sta qui da noi per perfezionarsi, lei è pittrice, per perfezionarsi proprio anche in storia dell'arte, con un dottorato, eccetera, e ci ha portato, ecco poi Salvatore ne racconta, ci ha portato diversi quadri, oli, chine, sempre con questa cromia scura, caravaggesca, ecco questa è più vorticosa, più in qualche modo rabescata, e però c'è sempre questo viso, capito, che prende ombra dopo ombra, costruisce tutta la sua imago, questo anche… Sì, anche c'è un gioco, come è un gioco, un gioco tra il bianco e il nero, tra le ombre, sì certo, certo, il nero esce dal bianco e viceversa, insomma in qualche modo c'è un incrocio, un riconoscimento reciproco, e complimenti, complimenti, a me adesso ci racconterai, sei ancora giovane, e è importante che non credere, sai, fino a neanche tanti anni fa, prendere i pennelli per una donna era una grande virtù, ma era anche difficile, è un segno di grande emancipazione di dipingere, scrivere, capito, noi avevamo nel rinascimento Artemisia Gentileschi, che fu figlia di Orazio Gentileschi, che fu una grande pittrice, però sembrava sempre che, capito, che la donna non potesse, non le si dovesse riconoscere, invece, oggigiorno le donne sono tra le artiste più delicate, più raffinate, forse anche più originali, alla mia destra da Castellamare di Stabbia, un altro luogo magico, che era molto amato da Michele Prisco, grande narratore che abbiamo conosciuto, abbiamo Anna Maria Farricelli, insegnante di italiano per tanti anni, e poi te staresti improprio con delle liriche belle, eleganti, di cui adesso ci farai dono, ci darai prova. E poi abbiamo, vorrei farla vedere, se Salvatore mi aiuta, ancora la ultima agenda, quella dei poeti, che è dedicata a Massimo Truisi. Ecco, vediamo se riesci a inquadrarla. Massimo Truisi ci manca, è sempre nei nostri cuori, ogni tanto vediamo, torniamo a vedere i suoi film, ed è sempre comunque presente, come tante altre figure importanti degli ultimi anni, penso anche a Pino Daniele, per certe anche amicizie, assonanze, lui è un grande cantautore, un grande musicista, e però sono comunque stati poeti di emozioni per chi li ha conosciuti, amati, eccetera. E quindi poi ho chiesto ad Anna Maria di aiutarmi a leggere Il Napoletano, una sua vecchia poesia giovanile. Ma cominciamo subito proprio con Tiziana, Tiziana, con questa poesia proprio del dipinto. Ecco, chiedo veramente all'architetto di uscire dalla scenografia, dal contesto... In fondo è una sorta di dipinto di un volto immaginario della natura. È certo, è certo. Attingo a madre natura, mentre mi accingo a dipingere il tuo volto. Nella mia tavolozza miscelo i colori del grano, del mare e del deserto per la cromia dei tuoi occhi. Rubbo pesche per le tue gote e ciliegie per le tue labbra. Un vasetto di rame contenente del miele dona il giusto tocco di sfumature di rosso al biondo dei capelli. Pagliuzze dorate sparse qua e là mi occorrono per quel naturale brillio. Eccolo, il viso è ora perfetto, manca ancora un solo elemento, uno sfondo azzurro cielo di un intenso immenso che rappresenta la purezza della tua anima. È bello, ci hai messo proprio con una tavolozza vasta. Ho pensato per un attimo, diceva che la donna, donna e... Ho pensato a queste flore, a flora come le dipingevano, i pittori della rinascenza, sì sì sì. Un'idea anche florida voglio dire, un'idea fertile, florida di femminilità. Naturalmente femminilità, quando si parla appunto, dice l'8 marzo, è una festa che deve essere comunque in luce, ma ci sono tante ombre, dà il rischio di tante ombre, ma a parte i femminicidi che sono fastidiosamente agli onori della cronaca, proprio la difficoltà di essere donne moderne, di avere il riconoscimento dei propri meriti, delle proprie virtù. E quindi io ti pregherei, pregherei Anna Maria, di leggermi questa specie di manifesto, devo dire, che tu hai scritto per essere donna, per empilo lirico, però adesso a questo punto, introducendo l'imminente 8 marzo, ha un significato donna. Essere donna non è 8 marzo, essere donna è sempre. Ecco, questo è il mio messaggio. Sì sì sì, certamente. Essere donna, donna, ma l'essere indefinibile, un'essenza a metà, tra angeli e demoni, ricettacolo di passione e dannazione, una mescolanza di nettare, sale e miele, una buccia di sole che copre la pelle, proiettando pezzetti luccicanti di sé, lieve e briosa, come folata di tiepida brezza primaverile che profuma di fiori, fiori dai petali di emozione e con gambo fatto di anima, un'anima dimora di cicatrici, delicata e morbida che nonostante il vento, la tempesta, non viene mai sfiorata, pronta a diffondere la magica essenza del suo amore. Un amore fatto di tutto, fatto di niente, di piccole cose, di quotidianità, di gesti semplici ma efficaci. Un essere imperfetto, ma che crede nell'amicizia, nell'amore vero, capace di passeggiare nei meandri dell'animo, di sentirne l'odore, masticarne la polpa e assaporarne l'essenza. Fragile, dolce, romantica, testarda, fiera, conosce la sconfitta, la sofferenza, capace di volare negli abissi più profondi del cuore, perdonare emozioni, perché essere speciali significa essere donna. Condividiamo un'anima dimora di cicatrici, mi ha molto colpito perché solo il riconoscimento di queste cicatrici, di queste ombre può cominciare a superarle, perché ci sono anche tanti traumi, tante dolcesse, tanti doni, ma anche tanti traumi. Io volevo chiedere ad Amida un resumé del suo percorso, sei una giovane donna, adesso cominci a girare anche l'Europa, vieni dalla Libia, da Tripoli, che è cara anche a certi ricordi italiani, a parte tutte le contestazioni, i travagli della storia, però è stata legata anche alla nostra storia. Credo anche con tante zone d'ombra, ma anche con tanto affetto reciproco, questo tipo nella città che fa parte del suo hold'amore, fa parte proprio della storia d'Italia. Come hai pensato di specializzarti in storia dell'arte in Italia, a Roma e questo bisogno profondo di quest'arte che è, vedo già, molto avvertita, molto abile, di portarla ancora un po' in giro. Ho visto diverse mostre, adesso Salvatore via via manderà delle immagini, ho visto diverse mostre anche a Roma, no? Vicino? Sì, sì, ho fatto una mostra nella galleria talent art, sì, con grandi fotografo, si chiama, si chiama, si chiama grande fotografo, sì, io ero grande fotografo, non importa. Sei così, in qualche modo si vede che l'abilità anche, con questo fulare, gli occhi, eccetera, sei riuscita a creare un quadro vivente, insomma, che così sei te stessa, insomma. La ringrazio. Quindi dimmi, allora, hai cominciato con queste prime mostre. Sì, la mostra con il signor Angelo e Maria Zamboni. Sì, ecco, questo l'abbiamo visto prima. Sì, questa è una mostra, ho fatto una mostra personale, sì, una personale, sì, anche ho fatto tante mostre in Italia, ho trovato l'Italia, paesi molto interessanti, sì. L'Italia per l'arte, una volta, era proprio un appuntamento meraviglioso, obbligato. Sì, ho bloccato, sì. Sì, ecco, e questo è appunto, facciamo vedere. Sì, questa è una mostra, questo è un gemellaggio conosaka, vero? Sì, conosaka, sì. Infatti vedo la giapponese, giapponese, sì, 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 sì. Con accessazioni. E questa è una china, no? Sì, questa è una china. Si vede questo volto, da una parte, molto scuro, dall'altra invece, questa luce è quasi in eccesso, quasi sovraesposto, no, interessante. Grazie. E questo, vabbè, questo è un, di nuovo, una china, insomma, in qualche modo, uno schizzo, insomma, un ritratto, che è una donna. Una donna ha letto, sì, legge un libro, sì, sta leggendo un libro, sì, sta leggendo un libro. Portante, portante, portante. Questo invece è ancora più fuori, esce fuori proprio dall'ombra, eh? Sì. I capelli crespi, così, è bello. Il mio massaggio nel mio disegno è diventare il mio paese nella pace, che viva nella pace, sì. Sì, perché la gente e tutti, insomma, non è… Noi sogniamo veramente una pace vera, duratura, insomma, una pace da costruire e da vedersi anche riconosciuta, insomma. Esatto. Non porta a niente la guerra. No, no. Non è veramente… ecco, questa è anche, no, questa è molto… Sì. D'altro, cioè, ormai devo dire che hai un tuo carattere, un tuo stile. E questo è un'altra… Sì, questa è una mostra… Un'vermissaggio, no, una mostra, ecco, un'apertura. Unica. Perfetto. Ah, questa è anche una bella… Una donna libica. Una donna libica, un bel profilo, sì. Beh, è un volto intenso, no? Sul… Con, in qualche modo, gli zigomi volitivi, intensi, sensibili, insomma, c'è un'espressione bella, forte, devo dire, anche molto moderna. Vedi, è stato molto abile, davvero a sovrapporre il tuo ritratto in Fieri, in Progress, con i tuoi stessi dipinti e disegni, vedi? Sì, sì. Del bianco in meno ha preso colore. Faccio così. Faccio il gioco. Era una bellissima immagine, complimenti. Una bella dissolvenza incrociata. Sì, allora, io volevo a questo punto farlo, questo dono, a noi stessi, insomma, a tutti voi, il ricordo di Massimo Troisi, e chiedo appunto ad Anna Maria Faricelli di aiutarmi, perché prima magari ce la leggi in napoletano. Questa è una poesia che si titola Ossaglie come fa il cuore, scusate, io sono romano, Ossaglie come fa il cuore, ed è, sono poesie di tanti tanti anni fa, dicevi, questi, che adesso tu ci leggerai, sono stati addirittura scritti, e al tempo del film pensavo fosse amore, invece era un calesse, e quindi stiamo parlando proprio, e però, e poi ci tengo a dire che la poesia è stata poi musicata da Pino Daniele, quindi, come dicevo prima, c'è stata un'amicizia profonda tra loro, quindi per noi è stato anche un appuntamento doppio, no? Io ti chiedo intanto di leggercela in... In italiano? Sì, in napoletano. Ah, in napoletano. Poi io la leggo in italiano. Ossaglie come fa il cuore. Tu stivano mezzanata, io guardavo, e prima due tempi all'occhio, poi si innamorava, già si era fatta in un cuore. A me, a me, ossaglie come fa il cuore quando si è innamorata. Tu stivano mezzanata a me, io guardavo, e mi dicevo, come sarà successo? Che è fornato. Ma io, non mi ne ero, ci voglio provare. Poi, se faccio andare in suo cuore, è una ricetta. Tu vuoi provare. E provo. Io mi ne vado, o sai come fa il cuore quando sei sbagliato? Ecco. La poesia è questa. Che poi è diventata appunto testo di questa canzone musicata da Pino Daniele. Vorrei anche un attimo salutare Antonia Scicolone, che è giunta adesso, ecco, a completare, diciamo, questa, no? Questo parterre di regine e principese, reginelle, come voi avete questa bellissima canzone. Lo sai, tu stavi insieme a un altro, io ti guardavo, e prima di dar tempo agli occhi di innamorarsi, già si era fatto innanzi il cuore. A me, a me, lo sai come fa il cuore quando sei innamorato? Tu stavi insieme a me, io ti guardavo e mi dicevo, come sarà successo che è finita? Ma io non mi arrendo, ci voglio provare. Poi si fece avanti il cuore e mi disse, tu vuoi provarci? E prova, io me ne vado. Lo sai come fa il cuore quando sei sbagliato? E' molto bello perché poi c'è una grande autoironia, una grande dolcissima emozione, questa butata, me ne vado. E poi, se sbagliato, quando è che il cuore si sbaglia? Quando non ci consente di amare, non ci insegna di amare, non accetta il nostro amore? E' molto bello tutto questo. Ovviamente l'amore è un mistero. Mi ricordo una frase indimenticabile di Alessandro Manzoni, che continua ad amare nonostante il terzo millennio, non lo vede in testa le classifiche degli autori più amati, in realtà è uno scrittore immenso. E lui nel progressivo dice, il cuore, sì che ne sa il cuore, appena un poco di quello che gli è già accaduto. E non è facile, il cuore non sa niente di se stesso, come della poesia. La poesia è ignota a se stessa, però quando c'è, quando il cuore batte, noi stranamente lo sentiamo subito. Lo sentiamo subito. Un po' come Pasquale. Sì, sì, sì. Il cuore alle sue ragioni, che la ragione stessa non conosce. Sì, sì, è uno dei famosi pensieri di Pasquale con cui ci siamo formati. Volevo anche salutare Antonia Scicolone con questo titolo, che adesso Salvatore mi aiuta a far vedere, questo libro è appena uscito, Abbondanza e Libertà, che è un bel titolo, Abbondanza e Libertà. È un titolo memorabile, insomma, che non è, l'abbondanza è sempre invocata, però la libertà anche è importante. In qualche modo sono, non dico in contrasto, ma devono essere messi in attento equilibrio. E hai questa vena, schietta, sincera. Ecco, io volevo intanto, ce ne leggi una, vediamo un po', vediamo un po' qualche cosa che abbia il senso di tutta questa serata, che è cominciata da poco, Antonia, e che è un po' all'insegna di questo famoso imminente 8 marzo, ma l'idea comunque della donna moderna, di quello che oggi è l'universo femminile, che è tanto, e che per certi versi, lo dico senza schiettamente, è all'avanguardia rispetto a tutto il resto. Ecco, vediamo, il denaro e potere, vediamo, riesci a leggere questo sulla donna? Ecco, che è proprio un altro manifesto, che fa il paio con l'essere donna, che ci ha letto poco fa. Benissimo. Anna Maria. Grazie. Donna, dentro di sé per tutta la vita, vuol dire conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare. se puoi vedere distrutto il prodotto di tutta la tua vita e senza dire una parola a rincominciare, se puoi prendere i guadagni di cento partite senza un gesto e senza un sospiro di rammarico, se puoi essere un'amante perfetta senza che l'amore ti renda pazza, se puoi essere forte senza cessare di essere tenera, e sentendoti odiata non odiare, pura lottando e difendendoti. Se tu sei meditare, osservare, conoscere, senza essere una scettica o un demolitore, sognare senza che il sogno diventi il tuo padrone, pensare senza essere soltanto una pensatrice, se puoi essere sempre coraggiosa e mai imprudente, se tu sai essere buona e saggia, senza diventare né moralista né pedante, se puoi incontrare il trionfo e la disfatta, se puoi conservare il tuo coraggio e il tuo saggo e freddo quando tutti lo perdono, allora i re, gli dei, la fortuna e la vittoria saranno per sempre tuoi sottomessi schiavi e ciò che vale meglio del re e della gloria tu sarai donna. curioso, un messaggio molto condivisibile, poi mi piace che hai contaminato un po' anche delle così, dei ricordi, degli estri, hai preso anche un verso di Kipling nella lettera al figlio, se saprai incontrare il trionfo e il disastro e trattare questi due impostori nello stesso modo, perché il trionfo sia amoroso ma anche il disastro, adesso sto scherzando perché sei molto ironica, sono la stessa cosa, sono le due facce della medaglia, come l'ombre e la luce per i quadri di Amida che adesso vedrai. il libro è interessante, mi piacciono anche molto le poesie brevi, Antonio stavo leggendo prima, questo è un po' avere l'essere, creatività e vita, sbaglio, permettevi di leggerne una, perché la leggo proprio da da maschio, dice, non vale la pena avere la libertà, se ciò non implica avere la possibilità di sbagliare, la situazione fa l'opportunità di crescere e di evoluzione, cioè voglio dire, la modernità ha dato anche delle libertà e si può anche sbagliare, l'importante è essere veramente liberi, sentirsi pronti, ecco, questo discorso del trionfo e della sconfitta, perché la libertà è un grosso attu, cioè un grosso, diciamo, un grosso guadagno, un grosso traguardo, però la libertà non è statica, questi traguardi di responsabilità devono essere sempre rimeditati ogni giorno, ti prego di leggercene a meno tre, queste sono tutte legate alla libertà ed è un tema importante e sono poi molto tue queste qui, temere la libertà davvero occasioni perché a volte sembra che la modernità vale per la donna ma anche per l'uomo, tu che sei stato insegnante per tanti anni, chissà quanti ragazzi hai svezzato all'idea di libertà e capito, la libertà non è fare quello che uno vuole, la libertà è il rispetto di se stessi e anche degli altri, di non perderlo, oggi tutti gli equivoci sulla libertà creano più malessere che altro, invece la libertà lo dico poco prima dell'8 marzo ma come discorso di ogni giorno, diciamo, la libertà deve essere comunque sempre un punto di ripartenza e una autocoscienza profonda, uomo, donna, pari e Antonia. Temere la libertà, la libertà significa responsabilità ed ecco perché molti la temono, la libertà è paragonabile all'aria, si ossigena nell'aria, se l'aria è viziata si può soffrire, se l'aria è insufficiente si può soffocare, senza l'aria si muore. Libertà 2, chiamiamole come i quali, senza titolo 1, senza titolo 2, libertà numero 2. Davvero, ci sono diversi tipi di libertà, ci sono parecchi equivoci in proposito, il genere più importante di libertà è quello di essere ciò che si è davvero. Essere se stessi, no? E poi? E poi c'è occasioni. Questo tris, questo terno mario. Occasioni, la libertà è essenziale per far posto all'imprevedibile spesso, all'imprendicibile sempre. Se abbiamo bisogno, perché? Come abbiamo imparato da essa nascono le occasioni per raggiungere molti dei nostri obiettivi. La libertà è costantemente dentro di noi. Ecco, bene, volevo che rimanesse questo, perché la libertà è qualcosa che è dentro, se non ce l'hai, se non ci arrivi non puoi né darla, né meno che mai parlarne, è un punto d'arrivo profondo e non va equivocato. Ti ringrazio, Antonia, di avere, anche con una bella dose di autoironia e di forza, mi hai messo l'accento. Da dove vieni? Da Modena. Da Modena, evviva, che è una città importante, una città che rimane sempre, vedi come tutto si tiene, Napoli, l'Emilia, Amida viene da Tripoli, Tripoli-Tripoli o vicino Tripoli? No, Tripoli. Da Tripoli, è una grande città, è una città importante. Ma abita a Roma. Però abita a Roma e comunque ha una, è pittrice, è artista e l'arte non ha confini, non ha barriere, non ha passaporto, no? Va, torna, tutto serve, hai delle radici forti e le radici sono nutrienti strumento per andare anche oltre, verso nuove cose. Volevo parlare un attimo con Tiziana che ha sentato del suo percorso di pittrice e poi anche della sua professione perché si sente che dietro c'è tutta una preparazione di sguardo, di contenuti, ha colpito molto quella poesia sui amici alberi per esempio che adesso poi ti otto ci leggerai. Adesso magari ecco, continuiamo questo discorso su questa libertà importante, non bastano gli omaggi, un po' di mimosette che poi tra l'altro sono mai già sfiorite e c'era profumate per meritare un'occasione dell'8 marzo. Bisogna veramente calarsi dentro, riconoscere, ingabbiare delle ombre, riconoscere anche tante cose da fare e quindi chiedo a Tiziana Bellucci che è architetto, questo bisogno proprio di ristrutturarsi, tu che ti occupi di ristrutturazione a livello architettonico in quel di Napoli è una città unica al mondo, splendida, cosa vuol dire ristrutturare invece un cuore, un'esperienza? Un po' proprio il percorso che ho fatto in realtà. Sì, sì, ho capito perché hai detto così molto, quella della valigia vuota poi ce la devi leggere. Di cui parlavamo prima, il ritrovamento degli Osepolto è appunto un reincontrarsi, riscoprirsi e lì poi iniziare un vero e proprio percorso di libertà interiore. Ho incontrato me stessa perché molti perdono se stessi o la maschera o la vita ti fa mettere un po' da parte. Ai noi, sì, certo. E quindi poi ti ritrovi e lì inizi veramente libertà in termini di libertà interiore quindi scevrida, macigni, pesi, angosce però certo è tutto un discorso da fare, ripeto, in termini proprio di interiorità al di là della libertà esterna. Se non siamo liberi noi con noi stessi difficilmente riusciamo anche poi a interfacciarci pure con le persone quindi sta tutto lì. A volte diventiamo come si dice noi vecchi ragazzi ormai vetusti avere le chiami di casa sembrava il primo riconoscimento della libertà o comunque poter fare quello che non volevi i primi viaggi all'estero ma poi alla fine uno deve essere libero veramente dentro altrimenti diventi prigioniero anche di certi conformismi di certe mascherature si è carcerieri di se stessi senza neanche saperlo ma certamente anche dei propri stessi amori voglio dire uno deve essere libero anche nell'amore perché sempre fedele a se stesso libero appunto anche di scegliersi di rinunciare e ti prego di leggermi questa poesia che mi ha colpito la valigia vuota la valigia vuota la bella metafora ferma dove sono seduta immobile ancora una volta osservo la mia anima volar via pur senza ali vado lo stesso lontano lontano ancora più di quanto potessi immaginare e nulla riesce ad ancorarmi al suolo nulla mi trattiene più nemmeno tu con il tuo grande amore che poi così grande non era tu che parlavi di bene e intanto sputavi veleno tu che parlavi di fiducia mentre mi voltavi le spalle ecco si riparte continuo a perdermi in questi viaggi senza tempo che posso fare questo forse è il mio destino un'anima inquieta e vagabonda senza meta senza dimensione senza spazio senza radici e senza neanche più una valigia o meglio senza più nulla da mettere in valigia libertà o prigionia non saprei di sicuro leggerezza ecco è una bella virtù la leggerezza no? che è che l'ironia l'amabilità devo dire che Napoli in questo nei momenti migliori la verve la verve giusta insomma no? ha sempre la capacità di di essere di salvarsi poi questi drammi storici come certe tele veramente dei caravaggeschi infatti Caravaggio ha lavorato ma sono dei caravageschi queste 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 dannazioni anche delle ombre e invece il guizzo la giravolta la veronica di sole veramente complimenti e volevo chiedere appunto ad Anna Maria io ricordo dolcissimo di di Michele Prisco era un scrittore importante lui di Anna ma ricordo la sua provincia addormentata che è stato un suo famoso libro il libro d'esordio la provincia addormentata lui aveva un valore così magico indimenticabile è stato veramente un uomo squisito semplice nobile perché la vera la vera nobiltà è il senso della semplicità dell'umiltà ma è una persona veramente amabile ma poi aveva questa 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 questo grande credo questa grande fede nel narrare è veramente un romanziere che sciorinava questi romanzi lunghi la dama di piazza la 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 capito gli eredi del vento mi ricordo questi romanzi è capace di cento pagine dopo l'altra di conquistare di addentrarsi nei segreti del cuore in queste ombre di cui si parlava prima e va bene tu da da Castellamari che è un posto bello e sei capace e questo è importante che le donne abbiano anche un loro riferimento un loro un loro ideale non dico di principe azzurro ma di principe magari scansonato quindi ti prego perché se no non vogliamo intristirci di di leggermi questo tuo di parlarci di questo tuo principe un po' per sfatare il mito di questo uomo di oggi un po' infantile abbiamo cominciato da Troisi di cui alcune gag erano indimenticabili lui ricominciava da tre ricominciò da tre lui capito aspettava una risposta vi ricordate quando faceva la smorfia che a lui dice gli chiedevano se era fidanzato lui non sapeva bene che cosa dire se sì o se no non sapeva adeguato aspetto una risposta il mio principe il mio principe è uno scansonato gioca ride scherza mi strappa in riso il suo sguardo intenso trasmette le sue emozioni ed il desiderio di percepirmi continua allora in quel gioco che mi piace tanto che mi porta lontana che mi invita a sognare che mi fa riappropriare della mia essenza e riconoscerne i turbamenti il mio principe è uno scansonato con la sua ironia mi ha insegnato ad amare a riscoprire il profondo legame che unisce due anime e considerare l'unione con l'altro come poesia il mio principe è uno scansonato con la sua goliardia è entrato in una dimensione di dolcezza e di gioia di vivere con il dialogo l'entusiasmo e l'autenticità il mio principe è uno scansonato bello bello questo discorso anche di autoironia eccetera e parlami ancora del tuo percorso adesso ci hai portato parecchie cose cosa stai preparando adesso a parte la tua tesi per il dottorato di storia dell'arte di che cosa ti vuoi occupare sul piano storico e sul piano creativo quali sono i tuoi progetti insomma quali sono sì il progetto sì l'arte contemporanea ecco l'arte contemporanea ecco questo è importante sì è importante perché ci sono tanti artisti italiani anche libici sono molto molto bravi quindi anche di creare un ponte in un certo senso tra Italia e Libia anche sul discorso artistico un discorso importante l'arte non deve essere statica anch'essa come l'idea della libertà deve creare dei ponti deve creare delle colleganze dei collegamenti quando un artista viaggia il viaggio diventa un viaggio anche oltre che dell'emozione anche del suo stile cambia tu pensi tu mi facevi vedere prima quel gemellaggio con Osaka pensa che cosa ha significato anche per un Van Gogh l'arte cioè vuol dire l'arte orientale c'è un momento in cui un grande artista ha bisogno anche di cambiare orizzonti di capito ecco questa è molto bella per esempio tu hai proprio queste chine questi ritratti forti l'occhio scende giù si abbassa però non si perde l'intensità sembra anche di capire di individuare i pensieri di questa donna la sua forza la sua forse anche il suo malessere per certi momenti perché ecco parlavi di questo questo è un gioco d'ombra sì questa è una donna che è triste eh sì l'occhio è triste l'occhio è triste si vedi che l'occhio destra non mostra bene certo perché ci sono tanti significati certo certo è molto bello sì non posso dire perché il quadro no no vabbè certo ognuno lo dice no il quadro dice tutto dice tutto però si capisce che c'è uno sguardo allarmato uno sguardo triste anche un po' preoccupato molto bello l'occhio che rimane in ombra sul lato sinistro diciamo così guardando destro e e ci guarda da quell'ombra da quella zona d'ombra da quella linea d'ombra proprio è incredibile l'altro invece è quasi per arrivare come io come posso dire sì per arrivare la gente come io posso dire questa c'è un messaggio per per i miei quadri sì questo per esempio è un altro messaggio questo invece c'è più questo è un ritratto no di un di un uomo con questi occhi che brillano con questi occhi intensi sì e questa espressione presente a se stessa un uomo giusto questo è un uomo giusto ma lavora tanti come è un bel aggettivo giusto sì giusto per tutti l'anima giusta è un uomo giusto perché sì ma la vita che vedo che hai un uso anche del colore molto molto bello moderno molto moderno sì per fare il il contrasto il contrasto anche questo è tutto già fatto sul contrasto dichiaratamente vedi che anche qui l'occhio sinistro rimane in ombra l'occhio destro ci sta guardando con uno sfavillio con un brillio dentro capito e però c'è c'è molta intensità sono quadri pensosi sono quadri pieni carichi capito di presentimenti ma anche forse di progetti di domande di punti interrogativi ecco veramente e questo lo conosce un nuovo quadro che stai preparando un autoritratto proprio da nitratto e ti vedi e anche la scelta dei colori attenzione non è casuale questo è il primo devo dire che è molto bello sì questo a Gubbio a Gubbio? a Gubbio no questo quadro mio quadro questo sta a Gubbio non è a Roma a Gubbio sì sì conosco bene quindi hai cominciato come un'ivera artista a seminare quadri a lasciare queste in vari posti e invece di storia dell'arte ti sta occupando di che cosa in questa tesi? sempre dell'arte moderna? sì ancora non per il prossimo anno il prossimo anno devi scegliere proprio un argomento sì sì è l'argomento sempre nell'artista libici come sì ecco l'informazione certo certo dopo l'informazione e come sarà l'arte in Libia perfetto perfetto ecco questi ancora tornano che sono anche vedi che dietro che alone di luce che c'è sì il lato è radioso le mostra bene le mostra ecco allora io volevo ecco io volevo tornare con la poesia la poesia di Antonia Ciccoloni che a volte è anche è piena di luce anch'essa come i quadri di Amida è piena di zone d'ombre ma zone di luce e questa cercavo voi nelle stelle è molto bella per esempio devo dire poi ci racconti un po' come è nata no? con questo finale ecco cercavo te nelle mie stelle quando le interrogavo ho chiesto te alle alte montagne ma non mi danno che poche volte solitudine e breve pace perché mancai nelle lunghe sere meditai la bestemmia insensata che il mondo era un errore del padre io non sbaglio nel mondo e quando davanti alla morte ho gridato di no da ogni possibile fibra che non avevo ancora finito che troppo ancora dovevo fare era perché vi stavate davanti voi con me accanto come oggi avviene un uomo una donna sotto il mio sole sono tornata perché c'eravate voi perché sei molto commuovente come è terminata non scendere nei dettagli no vabbè posso anche serenamente dirlo questa poesia l'ho scritta l'elemento maschile è mio padre l'altro è mia madre che sono i genitori i genitori che sono scomparsi a distanza di un anno e io mi sono trasferita nel frattempo a vivere in collina per cui vedevo le mie montagne e quando vuoi ritrovare quello che è l'aspetto atavico lo ritrovi perché poi c'è l'universo che te lo dà nel tuo sentirti non solo perché senti la presenza cerchi le motivazioni però e poi il maschile che ti ha dato tanta forza il femminile che è il tuo specchio il tuo riflesso li cerchi quindi sono davanti a te col sole non sei solo perché il sole ti riscalda è molto bello devo dire ecco cosa vuol dire sì l'omaggio per l'8 marzo capire veramente quali sono le nostre radici quali sono le vostre radici quanto si deve a entrambi i genitori l'aspetto paterno la visione materna senza forzature perché anche lì ci sono tutti quei discorsi che voi conoscete meglio di me io ricordo come adesso un verso di Hans Sexton una donna è sua madre ma sì ma è anche suo padre poi c'è un rapporto privilegiato tra il papà e la femminuccia e devo dire che questo racconto anche del trasloco le montagne la collina Modena che è un gran ducato voglio dire molto bello e mi ha dato l'idea anche che la natura sia un qualche cosa ineliminabile che non può essere parlo anche voglio dire a Tiziana non può essere soltanto uno scenario costruito l'uomo ha bisogno di un rapporto profondo ineliminabile con la natura per questo ti chiedo di leggere quella poesia sugli alberi che stiamo perdendo anche se voi siete avete Napoli Castellammare avete la fortuna di vivere condividere scenari belli fulgiti fiabeschi insomma ecco il golfo e però c'è sempre questa prevaricazione c'è questo l'aspetto la stessa portici che una volta era bella vista il granatello quindi oggi una colata di cemento perciò adesso uscendo dai discorsi delle dalle rinunce giornalistiche io penso la tua infanzia tu ne parli sempre queste ville i profumi i fiori quest'idea proprio questo incantamento vale anche per te Antonia che poi alla fine diventa un 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 diktat metropolitano un'angoscia un traffico eccetera è difficile districarsi tutto di corsa è tutto di corsa ti prego ti leggimi questo tuo omaggio agli alberi gli amici alberi linee rette poligoni chiusi fogli strappati tratteggi cancellati disegno e ridisegno ma non progetto non trovo più dimora questi miei pensieri sciolti e selvaggi come cavalli indomabili vedo solo scatole chiuse e squadrate colate di cemento squallido e grigio dove sono finiti i colori costipati come sardine viviamo dentro troppi limiti e confini cerco altro cerco spazio cerco vita guardo i miei amici alberi e con loro mi confronto percepisco il loro disagio sento sulla mia pelle l'identico malessere non so ancora come dove e quando ma so che prima o poi libererò tutti me compresa da questa immonda prigionia promesso il finale è anche forte il vero open space abbiamo tutto non sono tanti luoghi ormai concorsi internazionali di architettura è sempre solo uno l'obiettivo cercare di ridurre lo spazio abitativo la gara è a chi riesce a mettere in meno metri quadri più persone eh sì è allucinante è sconvolgente di far sembrare grande e piccolo un po' come le macchine no? di far sembrare appunto il monovolume in qualche modo di idea e però poi via via tu mi insegni che l'altezza dei muri anche scende adesso i mobili che si scatolano l'uno nell'altro diventiamo noi delle matriosche pure noi è un bello complimenti complimenti ma io questa idea degli alberi è bella non so se tu perché tu sei legata più ai ritratti più al al paesaggio umano dell'uomo interiore la ritrattistica non so se poi anche tu abbia piacere poi di dipingere la natura il paesaggio credo di sì che lo abbia anche fatto sì ma per questo momento no no magari in passato sì in passato sì 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 ho disegnato tanti la natura è sempre un una cosa efficace è fascinante insomma è sempre un bel un bel progetto permanente invece volevo cercare al di là delle metafore eccetera di di capire che cos'è gli alberi sono sempre amici ma poi ci sono alberi anche desideranti alberi pieni di desideri alberi dei desideri no che cose sono sono le foreste magiche no io rapportandomi un poco a quello che ha detto l'amica Tiziana in effetti la vita è rappresentata da un albero no certo la simbologia l'albero della vita certo l'albero della vita certo allora diciamo nel mio percorso letterario e poetico artistico diciamo così mentre da un lato metto in risalto diciamo questa questo frenetico andare dell'uomo dove non c'è spazio per i sentimenti per riflettere allora io mi sono sempre data l'obbligo di continuare a sognare certo ed è proprio l'albero questo colloquio con l'albero che mi dà il permesso di cercare quella felicità senza andare troppo lontano bellissimo è questo l'albero dei desideri dimmi dove è questo l'albero dei desideri perché vogliamo non perdere di vista pure noi senza andare molto lontano l'abbiamo ognuno di noi conteniamo tutto ecco ho costruito l'albero dei desideri per darmi il permesso di realizzare le mie aspirazioni più profonde e cercare le risorse per scoprire il piacere e la gioia del vivere ho cercato i desideri passeggeri per trovare l'allegria senza tanti perché poi ho cercato quelli profondi per strutturare la mia esistenza alla ricerca della felicità allora quei frondosi rami accarezzandomi il viso e i capelli con un delicato soffio di vento mi han sussurrato i desideri non crescono sugli alberi né si trovano nei boschi devi cercarli dentro di te i desideri sono nascosti nel tuo cuore è quell'essenza che cerca la luce è il bisogno di sapere chi si è è la necessità di condividere di amare di progettare di sognare ascolta il dentro di te oriente i tuoi desideri come una vela che cerca il vento solo così saprai dove andare cosa cercare come camminare e scoprirai la tua forza e la tua bellezza solo così potrai osservare l'altro con gli occhi della tua anima vedere il mondo con la luce del tuo cuore solo così avrai realizzato i tuoi desideri e trovato quella felicità che si traduce nella quotidiana gioia del vivere certo che armonia che presenza senti due parole sull'insegnamento adesso dopo tanti anni insomma hai chiuso però è importante la poesia a scuola per i ragazzi la poesia sì la poesia io purtroppo la didattica la metodologia i corsi i ricorsi storici una volta si fa una volta non si fa la poesia io diciamo che nel rapporto con i miei ragazzi sono sempre stata solo se stessa me stessa ho ascoltato sempre il mio cuore e ho abituato ho cercato di collaborare con i miei ragazzi cercando di interpretare la poesia la poesia era una recitazione dove ognuno di loro aveva il proprio ruolo sì e solo così i ragazzi hanno amato la poesia l'hanno sentita loro certo e hanno scritto le loro poesie le loro poesie questo è importante questo è importante noi amiamo anche lavorare con i ragazzi appunto e ho cercato sempre di portarli a sognare perché la luce del sogno la fiamma del sogno non si deve mai spegnere un uomo che non sogna è un uomo che non ha più vita certo poi i sogni propri non i sogni che ti insegnano gli altri perché sono periodi in cui i sogni siamo colonizzati anche nei sogni ecco i sogni come obiettivi di vita i sogni come traguardi da raggiungere ti ringrazio molto senza demordere senza guardare agli ostacoli senza lasciarsi scoraggiare già mai è questo che ho cercato di infondere poi sappiamo bene che la scuola adesso ha tanti ostacoli non vorrei esagerare ma molte volte sono proprio le famiglie che eh sì discorso molto anche molto vasto poi già la famiglia è cambiata sta cambiando i tempi sono diversi gli obiettivi una volta c'era una collaborazione maggiore maggiore proprio tra l'altro la famiglia e la classe insegnata torniamo al discorso a volte c'è quasi un astio reciproco insomma è quando manca il rispetto quando si confonde ecco si parlava di libertà ma nessuno di noi come diceva Rousseau la libertà non esiste la libertà finisce quando comincia quella dell'altro bisogna capire i limiti dove sono c'è un'armonia ecco mi piace che insieme hai citato Rousseau perché sono le grandi risorse anche della psicologia assolutamente assolutamente Pasquale Rousseau hai citato tutto quello che è l'empito profondo lo spirito ma anche l'idea di libertà l'idea proprio anche che l'uomo allo stato di natura allo stato naturale è positivo e questo è molto bello io volevo adesso mancano pochi minuti però mi interessava tutto il discorso sul riconoscimento dell'io e sul capito su questo lavoro questa ristrutturazione questa ristrutturazione di architetto e quindi ecco ti prego di di leggere di donarcela di farne specchio come facevi tu con i tuoi ragazzi insomma di recitarcela insomma il ritrovamento dell'io sepolto ero dentro me sepolta viva ogni presente una nostalgia continua una malinconia fissa e costante il dolore di un lutto che non ti lascia andare a nessuna gioia pensavo che c'è da meravigliarsi le perdite dei cari ti spengono pian piano mi sbagliavo quanto mi sbagliavo era me stessa che avevo perso seppellita con le mie stesse mani poi il pianto dentro e fuori ancora ho le lacrime agli occhi e sono dolci calde ho incontrato me è stato un incontro d'amore l'amore puro incondizionato viscerale ho ascoltato il mio cuore ho sentito la vibrazione della mia anima ho sentito l'urlo della desperazione mai più mai più ti prego non lasciarmi mai più sepolta in una bara senza tempo perdonami ti prego perdonami per averti messo da parte per così tanto tempo e nel mentre mi abbraccio per darmi calore perché finalmente sento freddo ma ho capito come coprirmi non provo più dolore ma solo gioia la gioia di ricominciare beh molto bello devo dire che è la poesia più indicata proprio per dare il senso di ritrovare se stessi di agire reagire agire reagire e reagire anche appunto agli eventi della vita assolutamente non sedersi mai non considerarsi mai arrivati e non demordere anzi rimettersi sempre in discussione assolutamente e ricominciare dal capo assolutamente ti ringrazio moltissimo se si riesce a fare con un po' di amore per se stessi è tutto più semplice ecco io quanto manca ancora Salvatore abbiamo ancora cinque minuti quindi e qui ti chiedo appunto di nuovo un discorso sulla libertà questa libertà non verrà è una poesia bella forte e che mi sembra che possa essere proprio il tuo la tua cifra di saluto un po' a tutti in questa occasione ma al di là insomma ecco perché tu sei anche pedagoga diciamo hai studi pedagogici importanti quindi c'è sempre una vena educativa non so se è russoiano o no ma c'è sempre un bisogno di apertura profonda in noi e verso gli altri Amida la libertà non verrà adesso questo tempo o mai tramite il compromesso e la paura ci sono gli stessi diritti di chiunque altro di procedere con le proprie gambe e possedere la terra stanchi di sentirsi ripetere lascia perdere domani un altro giorno non ha senso la libertà da morto non si vive del pane di domani la libertà è un germoglio robusto piantato nella grande necessità si vive anche qui si vuole la libertà esattamente come altre i sogni ho cercato sempre di inseguire i miei sogni sforzandomi di non perdere la speranza ho gridato i miei pensieri i miei desideri al cielo al sole alle stelle ma il vento crudele ne ha deviato i percorsi li ha dispersi confusi allontanati allora ho chiuso gli occhi ed ho bevuto l'acqua cristallina dei fiumi mi sono tuffata nell'azzurro del mare ho rubato i profumi dei fiori e sempre immersa nel buio nero dei miei occhi ho sognato le mie svanite gioie le stesse che mi ha relegata ad una realtà senza luce e lasciato il mio cuore implacato ma non posso avvertire il niente ma non posso sentirmi niente ho dentro di me ancora tutti i sogni del mondo tutti i sogni del mondo che rimangano con noi custoditi tra ombre e luce Amida e volevo chiedere anche a a Tiziana Bellucci di leggermi un'ultima cosa per salutarci e forse forse proprio il tempo questo è legato al tempo perché è qualcosa di condivisibile qualcosa però ecco finalmente tu gli dai un senso concreto a questo tempo lo smitizzi perché poi dice il tempo non esiste o si esiste ma dove in che modo eccetera quindi bello perché da un lato lo smitizzi dall'altro lo riconsacri più vero più schietto quindi questa è una cosa di cui ti ringrazio il tempo il futuro non esiste è solo una matassa che da sola inesorabilmente si sbroglia con un filo che scorre lento e che ogni tanto per errore o distrazione si annuda il passato è trapassato chiuso in uno scrigno fermo archiviato qualche volta profumato qualche volta stantio il presente è qui nel mio cuore ringrazio molto chiudo con questo omaggio di nuovo a Massimo Troisi questa è una poesia in lingua in italiano che lui ha dedicato alla mamma alla madre è talmente bella intensa che va al di là della intelaiatura familiare del ritratto familiare diventa veramente insieme un mito una preghiera qualcosa che può giungere a Tripoli può da Tripoli ripartire arrivare a Modena Napoli Portici tutto quello da cui veniamo pensa allo sguardo di Leopardi negli ultimi anni quando scriveva la ginestra ovvero il sole del deserto ecco a queste fioriture noi ci riferiamo a questa ginestra che non non smette mai come adesso di rifiorire e di profumare un deserto che non esiste che deve essere vinto ecco a questo credo fortemente anche il rimpianto Massimo Troisi io sciupai il tuo candido seno di giovane madre di donna piacente rubai allo specchio la tua bellezza e nelle tue mani sempre più vecchie fotografie i discorsi di mio padre li ho imparati a memoria fosse per lui crederei ancora ai libri di storie con te devo rincontrarmi in un fiume nero e tra fiori e marmi ritorna il rimpianto la guerra ti tolse dalle labbra il sorriso io cancellai anche quel po' di rossetto ti vedevo gigante per un rivolo di saliva all'angolo della bocca e ti vidi bambina ti vidi morire e tra fiori e marmi tra un pugno e un bacio tra la strada e il mio portone tra un ricordo e un giorno nero torna e vive anche il rimpianto ecco questa idea di un figlio allora piccolo senza tempo ormai che non crede più ai libri di storia ma crede veramente ai fiori all'amore ai ricordi forse anche veramente al suo sorriso alla sua ironia che non è mai stata triste vorrei con questo lasciarci e abbracciarci tutti il nome veramente com'è il tuo titolo? Abbondanza e libertà di abbondanza e libertà che sono due virtù che la poesia contiene grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti